Buongiorno a tutti, oggi vi illustro il funzionamento di uno strumento che si chiama capacimetro e serve per misurare i valori capacitivi dei condensatori. L'unità di misura è il farad, però dato che il farad è un valore molto ma molto grande, di solito vengono utilizzati i sottomultipli del farad. Questo strumento ha diverse scale, queste sono le portate massime che vedete, e si va dalla portata massima dei 200 picofarad fino ad arrivare alla portata massima dei 2000 microfarad per 10. Questo strumento è dotato di azzeramento per valori di capacità molto bassa e di due tipi di puntali più questo accessorio che permette di misurare in maniera precisa, quindi senza il contributo dei cavi, che introducono una piccolissima capacità, quindi si inseriscono direttamente i terminali qui dentro questo accessorio e si fa la misurazione. Per quanto riguarda i valori di capacità molto bassi, quando ad esempio si è sulla portata massima di 200 picofarad, bisogna tener conto di un errore strumentale dovuto magari ai cavi, anche a questo accessorio eventualmente, e quindi si fa l'azzeramento preciso utilizzando questa rotellina fino ad arrivare a zero, in modo tale che il valore capacito misurato è preciso. Quindi si può utilizzare, come dicevo prima, questi cavetti che andranno inseriti qua dentro rispettando i colori, oppure si possono utilizzare anche quell'altro tipo di puntali che vedete qui, oppure anche questo accessorio, sempre in queste due prese. Oltre all'azzeramento che vi dicevo prima, che come vedete adesso è cambiato perché i cavi introducono una piccola capacità, si può anche vedere meglio il display utilizzando questo tasto che illumina il display. Queste sono tutte portate massime, quindi si può cambiare la portata massima, cioè sapendo all'incirca il valore del condensatore, si imposta un valore superiore, supponiamo che ad esempio il condensatore è da 10 nF, si presume diciamo che sia quello, si mette un valore di portata più alto, quindi in questo caso di 20 nF, e via discorrendo a secondo di quello che si deve misurare. Questo strumento funziona con una batteria da 9V, e poi ha questo supporto, che è molto comodo quando si devono fare le misure a banco, perché questo supporto permette di mettere lo strumento in verticale, diciamo che rende una lettura più agevole, se si stanno facendo delle misurazioni, ad esempio su una scheda, naturalmente per fare le misurazioni bisogna sempre staccare, scollegare un terminale, perché altrimenti lasciando il componente collegato sulla scheda, non si fa una lettura precisa, perché c'è il contributo del resto del circuito che si trova sulla scheda. E con questo ho concluso.